Questo jeju, probabilmente, si chiama Seagar Box, o meglio, ha il concetto della Seagar Box, quelli là in fondo, giustamente, fatte in questo modo, sembra una chitarra, ha, diciamo, la stessa idea della chitarra, ma ha meno corde, quindi per me è uno spasso, perché passare da sei corde a quattro, statisticamente limita la possibilità che io faccio delle cazzate durante il concerto. Il massimo è la DJ Bo, che ne ha una sola, e che quindi per me è fantastica da suonare, è la cosa più semplice, ma è anche questo suono strano, perché, come vedete, è fatta con una latta sotto di una famosa arca di benzina, eccetera, eccetera, della quale però non ho l'endosment, quindi non prendo una lira dal fatto che ci sono le iscrizioni di questa marca, ma suona in maniera piuttosto sporca ed è una cosa che mi piace molto, soprattutto sui pezzi tipo questo, no, un po' più cantini, se vogliamo, sui quali, sempre per il rispetto che dobbiamo portare per il luogo, potete anche fare un po' di casino, se vogliamo, se sognare. Grazie. 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 No 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 Grazie a tutti Grazie a tutti